Fra i tanti sogni che questa emergenza sanitaria ci ha tolto ci sono anche le Olimpiadi di Tokyo in programma a luglio e ora spostate al 2021. La Valtellina, Livigno in modo particolare, in questi anni ha ospitato gli allenamenti in quota di tanti atleti che sarebbero stati protagonisti ai giochi nel Giappone. Una su tutte la campionessa di nuoto Federica Pellegrini che aveva scelto proprio il piccolo Tibet. Con lei praticamente l'intera spedizione azzurra di nuoto a iniziare da Greg Paltrinieri. L'Alta Valtellina negli ultimi mesi ha ospitato anche i mezzofondisti azzurri e la nazionale assoluta di velocisti guidati da Claudio Rossetto. Tanti anche gli atleti stranieri che hanno scelto nel recente passato Livigno come tappa di preparazione. La stessa Federica Pellegrini sul rinvio dei giochi ha commentato Serafica, pazienza dovrà notare un altro anno. La nuotatrice ha già partecipato a quattro edizioni dei giochi e questa sarebbe stata, ma lo sarà sicuramente, la sua quinta partecipazione. E allora dal velocista Filippo Torto al paralimpico Alex Zanardi, passando per tanti nomi magari meno celebri, prendiamo lo slittamento delle Olimpiadi come una metafora della nostra vita. Sono state spostate, non annullate. Si faranno l'anno prossimo, più belle e vincenti che mai. Quasi un simbolo della rinascita. Anche la provincia di Sondrio, nei mesi che precederanno l'evento, sarà nuovamente pronta ad ospitare gli atleti in preparazione. Sarà il nostro modo per dire siamo tornati.